La Mabilia è nata esattamente nel 50, io quando sono entrato nella compagnia, cioè quando è nata la compagnia, sono sempre stato nella compagnia, da quando è nata, il primo anno facevo la vecchia, facevo un personaggio tipo la Teresa, dopo abbiamo studiato, per caso venne la figlia della Teresa. Ma era il nome soprattutto da dare a questa ragazza e ci è piaciuto molto il nome Mabilia, è una ragazza che conosco io, che si chiama appunto Mabilia, una ragazza non più giovanissima che va ancora in sala da ballo, nelle discoteche, come la Mabilia, il personaggio che interpreto io, che non molla. E' questa ragazza che va alle elezioni della Miss, pur avendo oltre 40 anni, si trucca ancora da bambina, crede di essere una bella donna, crede di essere intelligente, crede di essere ricca, crede che lei vorrebbe essere tutto. Poi invece è una ragazza che va in bicicletta a lavorare in tessitura, anche se molto spesso manda la fede medica della malattia, però è una ragazza che vorrebbe essere tutto. Ma secondo ti insupposti questi, come il tuo è il mio brillante, ma te ne vedi no a chi inquadra? Eh, sapete che la sbisera l'orfa quadrà la roba?